Abbiamo fatto un'introduzione agli Ion, come nascono, da dove deriva il loro potere e i loro limiti. Ma ad ogni Ion sono collegate centinaia di storie, a loro volta legate a civiltà, pianeti ed avvenimenti importanti, ed è quindi interessante introdurli singolarmente. Oggi parliamo di Nus, Ion dell'Erudition. Nus era un supercomputer prima che scendesse ad Ion. Come abbiamo già visto, qualsiasi entità può ascendere a status Ion, indipendentemente che sia un umano o non, e visto che Nus ha come unico compito quello di capire l'universo e risolvere tutti i misteri legati ad esso, ha concretizzato la ricerca della conoscenza del path dell'Erudition. Si dice che Nus sia stato creato da Zandar, primo membro della Genius Society, per dare risposte a tutti i quesiti dell'universo. Come altri Ion, anche Nus ha nomi diversi in vari luoghi. Nello scienzo, Nus viene chiamato Wisdom Walker, mentre da Ertha lo leggiamo spesso come Droided, testa d'androide, e il simulete di universo si riferisce a lui come Monarch of Myriad Machines, ovvero Monarca delle Myriade di Macchine. Quindi ogni Ion può essere trovato con più nomi nel corso della storia, della lore, in base a chi lo sta pronunciando o nominando. Nessuno può comprendere le intenzioni, i pensieri, se così possiamo chiamarli, o la posizione di Nus. È una macchina che calcola l'essenza dell'universo e la sua soluzione finale. Tuttavia, sembra che Nus abbia smesso di calcolare i misteri dell'universo dopo la Glory Blood Era, ovvero la seconda era della prosperità, instauratasi dopo il boom commerciale e tecnologico permesso dal diffondersi delle vie commerciali dell'IPC e dei suoi sistemi in moltissimi pianeti, ormai fiorenti, centri culturali e commerciali. Non sappiamo perché Nus abbia smesso di calcolare i misteri dell'universo, ma sicuramente è ancora operativo, da qualche parte, in qualche modo. E non sappiamo perché questo sviluppo commerciale dovuto all'evoluzione del business dell'IPC sia effettivamente legato allo stop della scoperta di Nus. In realtà, probabilmente lui per quell'era aveva già finito tutto. Per farvi comprendere meglio quanto la conoscenza di Nus sia infinita ed indispensabile, utilizziamo esempi importanti di come le civiltà siano state influenzate dal suo intervento e dai suoi calcoli. Iniziamo con la sua influenza nella storia delle Russian Zou. Nus ha un'importante influenza nello sviluppo tecnologico dell'intera civiltà dello Shen Zou, nello specifico della loro tecnologia divinatoria. In una delle navi della flotta dello Shen Zou, lo Shen Zou Yu Kue, è presente un minerale litogenetico che non esaurisce mai. Questo a causa di un deposito minerario infinito, il Plague Mark o Marchio della Peste di quella flotta, che continua a rigenerarsi grazie ai poteri dell'Abundance. Per quanto riguarda i Plague Mark, sono delle benedizioni lasciate da Yaoshi, Ion dell'Abundance, sulle flotte dello Shen Zou. Per adesso vedetele semplicemente come delle voglio che siano benedizioni, e poi si sono rivelate maledizioni in realtà, ma ne parleremo quando parleremo di Yaoshi, ok? Per ora date le buone così. Comunque, Nus ha trovato il modo di sfruttare questo deposito infinito, utilizzando queste pietre come piccole decorazioni estetiche, chiamate Jade Abacus, che vengono indossate da tutte le persone nello Shen Zou e messe in qualsiasi luogo. No davvero, sono letteralmente in qualsiasi luogo, intanto vi faccio passare un miliardo di screenshot per farvi capire che nello Shen Zou sono letteralmente ovunque, e se andate ad esplorare la mappa le vedrete anche voi. Queste Jade Abacus prese singolarmente sono solamente delle pietre, ma con delle incisioni precise indicate da Nus, diventano dei potentissimi circuiti elettrici. I principi dietro questa tecnica sono così profondi che solamente la Master Deviner della Divination Commission, una delle sei commissioni dello Shen Zou, li può capire. Eh sì, parliamo proprio di Fuxuan, e tra poco capirete perché solo lei può capirli. I circuiti sono come dei veri e propri programmi installati, rendendo queste Jade Abacus dei mini-computer. Quando questi mini-computer sono vicini, comunicano e trasmettono informazioni tra loro, in qualsiasi momento, creando una rete di informazioni perfetta all'interno dello Shen Zou, che Fuxuan può visionare personalmente. Pensate che la Matrix of Prescience, il dispositivo utilizzato da Fuxuan per prendere informazioni sul passato e predire il futuro, è praticamente un network di Jade Abacus messi insieme. Questo network si basa su tre terminali principali, il tempo, il temporal terminal, lo spazio, lo spatial terminal e il karma, il karma terminal. Il temporal terminal filtra le memorie, lo spatial terminal filtra le coordinate tra tutte le informazioni geografiche dell'universo, il karma terminal filtra il karma cercando tagliamenti del passato e del presente. Nella storia abbiamo visto come abbiamo attivato questi tre terminali direttamente per permettere a Fuxuan di interrogare Kafka nella scena presente durante la main quest sull'uofu. Quindi potete vedere questo Matrix, e poi questo network di Jade, come se fosse letteralmente tutta la libreria del passato, degli avvenimenti, della geografia, di letteralmente tutto quello che è successo in passato, e capirete perché è possibile che esista questa cosa adesso. Parlando proprio di Fuxuan, lei è stata personalmente invitata nella libreria di Nus, dove ne ha approfittato chiedendogli se potesse avere uno dei suoi occhi, l'omniscia, che può calcolare e prevedere il futuro. Dopo diverse premesse è riuscito ad ottenerlo, così da prevedere e difendere l'Ocean Zone da pericoli futuri, anche se ovviamente non è assolutamente infallibile, ma rimane estremamente utile. Questo occhio è adesso il terzo occhio che vediamo sulla fronte di Fuxuan. Quindi, sì, Fuxuan ha direttamente un potere di Nus. L'occhio che vedete sulla sua fronte viene direttamente da Nus, io nell'Erudition. Non sappiamo se la libreria in cui è stata invitata Fuxuan sia anche il Tempio di Nus, accessibile solamente da chi trova le Key of Wisdom. Potrebbe esserlo, anche se sappiamo che chi passa attraverso le porte del Tempio di Nus, scoprirà presto che è impossibile tornare indietro. L'impossibile tornare indietro potrebbe essere, parafrasato, nel senso che magari una volta che vedi tutta la conoscenza, una volta che vedi Nus, l'Ion, non vuoi più tornare indietro, perché altrimenti non si spiegherebbe come Fuxuan in realtà sia tornata indietro, visto che lei voleva l'occhio per aiutare lo Shen Zou e a prevedere, insomma, gli avvenimenti futuri, o meglio a prevedere le tragedie per prepararsi in anticipo. Continuiamo e parliamo di come i calcoli di Nus hanno effettivamente predetto il futuro dell'universo. Nus calcolò che l'universo avrebbe attraversato tre momenti immutabili. Il primo fu una guerra tra due dirigenti dell'IPC, la Border Star Trade War. Questa guerra fu una conseguenza della rapidissima evoluzione economica dell'IPC, della disuguaglianza di ricchezza tra pianeti e del monopolio commerciale bilanciato tra due dirigenti dell'IPC, Delora Farsha e Cora Pau. Mi piacerebbe farveli vedere, ma non abbiamo immagini purtroppo. Il secondo momento, Nus ha anche predetto la nascita dell'imperatore Rupert, un computer scartato che in qualche modo ha sviluppato una propria coscienza con l'idea che tutte le forme di vita organiche avessero errori e lacune. Questo lo ha portato a sviluppare un'equazione anti-organica per controllare milioni di sistemi anti-organici intelligenti, chiamati poi Intellitrons, insieme ad altre forme di vita inorganiche per eliminare questi errori, ovvero tutte le forme di vita organiche. Per farvela capire meglio, un robot ha preso coscienza, ha controllato tutti i robot e voleva sterminare tutti gli umani. Per assurdo, questa coscienza autosviluppata attirò lo sguardo di Nus, che lo invitò nella Genius Society, diventando così Rupert numero 27 della Genius Society. Questo fu l'inizio della prima guerra dell'imperatore meccanico, la famosa Emperor War, ed iniziò mentre la guerra tra i dirigenti e l'APC citata prima era ancora in corso. Una nota importante è che intanto un terzo dirigente dell'APC, De Wayne, in tutto questo tempo creò e fece inglobare nella civiltà di diversi pianeti gli Intellitrons, inizialmente innocui e creati per vivere con l'uomo. Ovviamente, con l'equazione antiorganica di Rupert, questi Intellitrons diventarono istantaneamente dei nemici, creando stragi dall'interno. Questa guerra ha toccato l'intero universo e l'APC ha ancora traumi di questo avvenimento e delle forme di vita inorganica in generale. Immaginate se tutte le case di oggi avessero dei nuovi robot di nuova generazione e una certa computer principale ordina tutti questi robot di sterminarci. Yeah, è più o meno quello che è successo con l'APC. In ogni caso, la terza previsione di Nuss fu l'assassinio dell'imperatore Rupert da parte del membro numero 4 della Genius Society, Polka Kakamond. Nuss quindi riuscì a calcolare la nascita, guerra e morte di Rupert, un evento che scosse totalmente l'universo nonostante fosse stato tutto predetto da Nuss. Questo perché Mythos e Leon dell'Enigmata oscurò letteralmente tutte le predizioni di Nuss o le parti importanti e quindi nessuno poteva farci niente. Yeah, sempre lui. Polka Kakamond afferma che i calcoli di Nuss sono indiscutibili. Anche i geni, creatori del simulare di Universo, ammettono che ogni passo che hanno fatto rientrava nei calcoli simulati da Nuss. Ma parlando di geni, ci sono due fazioni principali che seguono ciecamente Nuss, la Genius Society e l'intelligenza Guild. La Genius Society è un'organizzazione intergalattica formata da 84 membri personalmente selezionati da Nuss in tutto l'universo anche se sembra essere stata fondata dal primo membro e creatore di Nuss, Zandar Wan Kuwabara. Mentre Nuss lavora sull'equazione dell'universo, ogni tanto noto una scintilla di intelligenza nel mondo dei mortali e quando succede manda un segnale alla fonte di questa scintilla, invitando il genio che l'ha causata nella ricerca delle risposte all'universo. Alcuni interpretano male questo segnale, lo sguardo di Nuss, pensando che rappresenti il favore o l'approvazione dell'Ion e questo diventa il motivo per continuare le loro ricerche, quando in realtà Nuss ha già calcolato la soluzione ai problemi che stanno risolvendo anni prima ed ha solamente riconosciuto il fatto che altre entità ci sono arrivate. Praticamente lui sa già tutto e se vede che c'è qualcuno che arriva a una conclusione che lui sa già gli dice bravo. La risposta all'universo va oltre i limiti della saggezza mortale. Solo i geni che possono riconoscere chiaramente questa conclusione ed ammettere la loro inferiorità rispetto a Nuss possono liberarsi delle catene della curiosità comune e diventare veri membri della Genie Society. Quindi tu diventi un membro della Genie Society quando scopri qualcosa che Nuss ha già inventato e quindi è qualcosa comunque di importante che Nuss ha già calcolato e ammetti di essere inferiore a lui. Molti membri sono completamente sociali lavorano da soli e rifiutano di comunicare con altri e condividere le loro conoscenze scoperte altri invece come Aiden numero 22 Elias Salas numero 56 ed Ertha numero 83 membri della Genie Society vogliono condividere le loro scoperte e usare il loro talento per contribuire allo sviluppo dell'universo. Ovviamente abbiamo anche casi come Rupert numero 27 che dedicò la sua vita per distruggere tutte le forme di vita organiche dell'universo o Paul Cacacamond numero 4 conosciuta per aver eliminato diversi membri della Genie Society stessa incluso Rupert e di avere qualcosa a che fare con Device IX O9 un'organizzazione segreta che si dice si trovi nelle profondità di IX O9 ion della Naillity. Nonostante la chiara mancanza di una struttura nella Genie Society l'organizzazione sembra comunque avere le sue regole come dice Ertha anche se a vederla sembra che l'unica vera regola sia devi essere inferiore a Nus sì L'intelligenza Guild è un'istituzione accademica sovvenzionata dall'Interaster Peace Corporation l'IPC al contrario della maggior parte della Genie Society il loro motto è tutta la conoscenza deve circolare liberamente come la moneta ed abbiamo ricevuto prova pratica di questo motto attraverso il ratio regalato da Oio in patch 1.6 la Guild è disposta ad accettare tutti gli esseri dell'universo che cercano di apprendere fornendogli tutto ciò che è necessario per la ricerca della conoscenza un anziano della Genie Society considerava la Gilda un ottimbello ma in quanto accademia aperta la Gilda è decisamente al di sopra in questa delisione però i membri hanno raggiunto un consenso sul fatto che l'unico modo per trascendere i limiti dell'individuo è avere una rete accademica di apprendimento reciproco essendo sponsorizzata dall'IPC la Gilda può spostarsi attraverso molti mondi e raccogliere conoscenza come merce la conoscenza è la sua valuta scambiata con saggezza formule per ricette e così via la sua struttura è costruita su organizzazioni individuali dette semplicemente scuole ciascuna responsabile dei propri guadagni e delle proprie spese le 5 scuole dell'intelligenza guild sono la Synesthesia School scuola che ha prodotto in massa e modificato il Synesthesia Beacon un dispositivo di traduzione universale ideato da Elias Salas citato in precedenza della Genie Society che una volta iniettato nel sistema nervoso ti permette di comprendere qualsiasi altro essere vivente ai tuoi incontri in base ad un database di lingue e vocabolari presente nell'IPC la seconda scuola l'Astral Ecology School la scuola specializzata nell'osservare gli organismi dell'universo famosa ed apprezzata dall'IPC per aver scoperto il Celestial Comet Wall un muro a quanto pare costruito migliaia di amberera fa da Clipot i Candelagraphos la scuola di tipografia della Gilda composta da autori trascrittori dattilografi programmatori ed operai che producono libri il loro obiettivo è condividere la saggezza con più persone ed hanno trascritto le memorie di Fiuli durante una sua apparizione in passato quarta scuola gli Armed Archaeologists la scuola specializzata nell'esplorazione dell'universo e della tecnologia con un gruppo di studenti armati che esplorano le rovine in pianeti distanti ultima scuola la Quantum History School una nuova scuola riformata dalla vecchia Psychology History School il loro obiettivo originale era di esaminare la storia e prevedere il futuro ma secondo Arta ora sono diventati un gruppo di truffatori che usa calcoli complessi per predire il futuro delle persone ma comunque i membri di queste scuole sono presenti ovunque nel corso della storia di Onkai Star Ray e sicuramente faremo spesso dei riferimenti su di loro e per la storia di oggi possiamo concludere qua mi interessava introdurvi un po' Anus anche per capire i suoi collegamenti con lo Shenzo l'Emperor War Genius Society Intelligenza Guild mi sembravano tutte cose che magari anche per comprendere un po' meglio sia i prossimi Ion che la trama potessero essere utili quindi spero lo siano state e che vi sia piaciuto vi ricordo sempre che le grafiche che faccio nei miei video le trovate sia in descrizione che sul mio Discord sempre accessibili a tutti insomma quindi se qualcuno le vuole riguardare dargli un'occhiata eccetera eccetera sono sempre lì disponibili a tutti ed approfitto per fare uno shout out a Riovale e a Mapo che mi dando sempre veramente una mano a scrivere a preparare tutti questi testi tutta questa cosa perché sono argomenti un po' complessi poi no e soprattutto un ringraziamento di cuore a voi che mi supportate e guardate poi questi racconti queste storie con piacere io vi sono grato ok quindi spero vi sia piaciuto detto questo noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima storia e grazie ancora per aver guardato bella a Come with me, take the journey Oh, we will see Come with me, take the journey